Buonasera a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di vigilia di mister Massimiliano Allegri e di Juan Quadrado. Come sempre chiedo di presentare a voi la vostra testata e di fare solo una domanda alla volta. Iniziamo con le domande per Juan. Grazie. Eccomi qua. Allora per Juan Quadrado, ciao, buonasera. Giuseppe Bisantis, Radio Rai. Grazie a tutti. Rispetto alla partita d'andata, hai avuto modo di vedere la civiglia da vicino e quindi non solo attraverso i video. Che atteggiamento dovrete avere domani per cercare di non ripetere gli errori della partita di una settimana fa? No, penso che dobbiamo scendere in campo con quella voglia, quella determinazione che siamo usciti nel secondo tempo. cercare di essere alti, prestarle alti, perché se lasciano loro il palazzo sicuramente sarà molto più difficile. Quindi questa cosa possiamo farla, se il mister si lascia. Buonasera, per qui, Juan. Buonasera, Davin Ibla per il Diario Deportes. Spesso del partito d'Ida, a pesar di come si è stato fatto il partito, molti vieron la eliminatoria più ugualata di quello che parecì in un principio, però per traiettoria, per presupposti, per storia, la Juve, o avete miedo a acceptare il partito del partito di domani? No, io credo che siamo un grande squadro, con grande esperienza, credo che anche il Sevilla è un buon squadro, però maggiore è come una finale, e credo che i due due squadri stanno per la città. Noi abbiamo venuto qui con le nostre aspettative, con le deseo di fare le cose bene, e ovviamente con l'aiuto di Dio per ottenere questo grande obiettivo e di poter passare alla finale. Ciao Juan, Romeo Agresti, Goal.com. Ti chiedo, stai pensando al fatto che eventualmente un trofeo europeo andrebbe a coronare il tuo percorso bellissimo, la Juventus? Grazie. Sì, sicuramente penso che mi ha mancato, sono stato molto vicino. Questa è una bellissima opportunità, non solo per me, ma per tutti i ragazzi, la società. e poter ambire a raggiungere questo grandissimo obiettivo dopo un anno abbastanza difficile. Penso che con la qualità che abbiamo dobbiamo scendere in campo con quella voglia e determinazione di poter farci questo regalo. Gianluco, Daniela Stampa, ciao Juan. Tu hai giocato più di 300 partite nella Juve, volevo chiederti se questa è probabilmente la più importante, considerando che, se abbiamo capito, il tuo percorso nella Juve si conclude poi con questa ultima stagione. Grazie. Sì, sarebbe certamente bellissimo. Ovviamente ci sono state delle partite molto speciali, questa è una in più. Cercherò semplicemente con i miei compagni di poter fare il risultato, che è la cosa più importante, l'obiettivo nostro, e cercare di raggiungere questa finale e sperando che tutto vada bene. Ciao Fabiana della Valle, Gazzetta dello Sport. A proposito del tuo futuro, hai il contratto in scadenza, ti vedi ancora alla Juve, ci sono possibilità che tu possa restare? Certamente sono molto contento nella Juventus e ho vissuto tanto tempo qui. e niente, ancora mi sento con molta forza, però penso che la cosa più importante è la partita di domani, e poi al futuro vedremo dopo. Antonio Paolino, Radio Bianconera. Ti chiedo se sentite delle responsabilità maggiori in questa partita, e se trovi delle similitudini con qualche altra partita, con qualche altro periodo. di altre stagioni. Grazie. No, queste partite sono partite che ti alzano il livello, è una finale, noi semplicemente dobbiamo cercare di scendere in campo e mettere quella voglia e determinazione per affrontarla. Per noi è una finale, stiamo vivendola così, cercheremo di scendere in campo e vincerela. Noi buona, Juan, Marimigen, qui in fronte tuya. Noi buona, Juan, Marimigen, para Visocer Sevilla. già venite qui con la Juventus in due occasioni, una victoria e una derrota in Champions League. No se, il ambiente che si espera maggiungo qui va a essere molto speciale, molto similar al del Manchester United, non se se lo has potuto vedere. Va a essere distinto al che già viviste con la Juventus. Al Manchester United le passò factura in los primi 15 minuti che un errore in salita di valore le costò la eliminatoria in questo caso. Non so se si crei che va a essere una delle cose di essere molto concentrato perché con la pressione del Stadio e del Sevilla le può passare factura a la Juve. Si, no, sicuramente il ambiente sempre si sente diciamo come l'incha numero 12 del Sánchez-Pinjuan e, bueno, io credo che noi abbiamo che stare ovviamente concentrato in una parte defensiva che abbiamo venito lavorando bene per poter contrarrestare tutto questo e a medida che vanno passando i minuti poter fare il fútbol che noi abbiamo venito intentando ovviamente hacerles daños però creo che è molto importante partire di una fase defensiva molto solida e di ahí empezzare a giocare. Bene, grazie Juan. Passiamo alle domande per il ministro Monsignano in Lega.